La risposta è sempre una e sola. Questa amministrazione, penso che lo abbia dimostrato in diverse occasioni, tiene non soltanto a quella che è la risposta dei propri cittadini, ma tiene soprattutto a quella che è la risposta che bisogna dare ai lavoratori. E questa è una questione imprescindibile, mia e di chi sta con me in questa squadra, compreso il singolo. Stiamo valutando, è chiaro che tutto nasce dalla circostanza che con il PNRR noi abbiamo avuto i fondi per la ristrutturazione di un asilo che è casetta sul filo. Questo comporterà l'inizio dei lavori a giugno per un periodo che va dai 18 ai 24 mesi. E' chiaro quindi che a noi manca una struttura, ma è altrettanto chiaro che io in bilancio, da assessore al bilancio, oltre che di assessore alla comunità aiutante, ho già inserito la cifra totale e completa per fare la gara così come è strutturata adesso. Come amministrazione stiamo valutando delle ipotesi. Ne sono due o tre in campo. E' chiaro che io ho queste ipotesi, è vero che ci deve essere la condivisione, ma è altrettanto vero che io su un tavolo porto la condivisione di ipotesi che comunque hanno un fondamento di realtà. Le ipotesi in ballo sono tre, di cui due possono essere appetibili, ma io di questi due, prima di portarle in un tavolo e quindi prima di esporre l'amministrazione, devo avere la certezza che siano entrambe percorribili. Perché se queste due o tre ipotesi sono buone sulla carta, ma poi in concreto non le posso attuare, io sul tavolo di discussione non ce le porto. ma per il rispetto mio, del comune, ma soprattutto di chi siede con me all'interno di quel pavolo. Assessore di Padova, però il Pettinaro parla anche di minacce ricevute dal comune. No, credo assolutamente... Affermazioni gravissime. No, minacce credo di... Assolutamente no, conosco bene i miei uffici, conosco il valore delle persone che fanno squadra amministrativamente insieme con noi e non ravvedo minacce. Magari toni un pochettino perentori e burocratici, ma da lì a parlare di minacce no. Il confronto chiesto dalle organizzazioni sindacali quindi ci sarà? E soprattutto il bando quando sarà pronto? Il confronto ci sarà, come ho spiegato prima, quando sulle ipotesi che noi adesso abbiamo... Allora, la politica fa delle ipotesi. E' chiaro che poi queste ipotesi devono avere una concretezza amministrativa, perché altrimenti, scusatemi, è fuffa. Quindi nel momento in cui su questo tavolo, di quelle che sono le proposte che noi come amministrazione abbiamo fatto, sappiamo che dietro c'è una possibilità fattiva di poterle realizzare, e di queste ne sono tre, diventeranno due quelle che potranno avere un loro percorso amministrativo, normativo, giuridico, vero e controecreto, le metteremo sul tavolo di discussione. Perché altrimenti sono belle parole, ma che poi restano tali perché non potranno mai essere attuate anche nel caso in cui dovessero piacere a tutti. Si pensa di essere... L'hanno interessato anche l'altra volta, andremo e ci seguiremo lì su quel tavolo. Magari potrà essere un facilitatore ulteriore in quella che è la comunicazione, perché è probabile, e me ne assumo la responsabilità, che io non sia idonea nel mio ruolo di mediatore e di facilitatore. Assessore, si pensa di esternalizzare altri asili? Potrebbe essere un'ipotesi temporanea per due anni legata al fatto che la casetta sul fiume è in questo momento per due anni e fuori. E per una struttura 0-3, le strutture devono avere, perdonami, scusatemi, devono avere delle strutture particolari. Per cui anche le scuole che noi abbiamo e che potremmo adibire a Giolli non hanno quelle caratteristiche strutturali idonee. Perché come ha detto giustamente anche Mauro Pettinano, e lo sottoscrivo, perché non si debba pensare che io non condivida quella che è la loro visione pedagogica, non è soltanto importante il ruolo che deve avere la maestra con il bambino e le famiglie, ma c'è un altro elemento importante, è la struttura. Perché anche la struttura, come è fatta, come è organizzata, è importante per la crescita educativa del bambino. Grazie. Grazie. Grazie.